carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi oggi e 20 settembre sono le 7 del mattino e leggiamo nel libro del profeta zaccaria capitolo 11 ci soffermeremo su sui 30 sicili che vengono profetizzati da parte di zaccaria che trovano il loro adempimento nel tradimento di giuda ogni qualvolta si parla di questo uomo di sicuro lo facciamo con un grande peso nel cuore perché egli tradirà il figlio di dio in cambio di una modesta somma sarà vinto dalla sua avidità e come disse gesù meglio sarebbe stato per lui nascere piuttosto che dopo essere nato tradire il figlio di dio giuda si trova nelle sue mani questi 30 sicli che gli vengono dati da parte dei sommi sacerdoti per poter tradire colui col quale per tre anni ha vissuto esperienze straordinarie lo ha visto compiere miracoli gli ho sentito parlare in un modo che nessun altro uomo aveva mai parlato eppure il suo cuore non si era mai arreso anzi aveva continuato a coltivare i suoi sentimenti le sue passioni smodati tant'è che leggiamo che egli era solito rubare dalla sacca dove il piccolo gruppo di gesù teneva quei pochi risparmi che aveva e che gli permetteva di potersi sostentare egli era il tesoriere aveva avuto quindi un incarico anche da parte del signore ma questo anziché responsabilizzarlo gli sembrò essere un'occasione per poter raggiungere i suoi scopi si ritrova in mano con questi 30 sicli e quando capisce l'errore che ha commesso vuole restituirli ai sacerdoti quasi per ovviare all'errore commesso ma i sacerdoti si rifiutano di riceverli per il tesoro del tempio e li destinano all'acquisto di un campo che sarebbe stato usato come cimitero per gli stranieri giuda getta davanti a loro la somma con la quale cristo è stato stimato al pari di uno schiavo ma il suo tormento non si attenua anzi lo consume e lo consuma talmente tanto che egli arriverà al suicidio senza cristo privato dell'appoggio di quei sacerdoti che lo hanno spinto al crimine il suo cuore è ormai in preda alla più completa disperazione e questo particolare ci dovrebbe far riflettere sull'errore che possiamo commettere quando confidiamo in amicizie che ci spingono verso il male verso scelte che sono contrarie a ciò che la volontà di dio è per l'uomo ma torniamo a giuda alle sue evidità penso che avesse bramato quei trenta cicli penso che si era lasciato vincere dal desiderio di averli di poterli stringere nella sua mano ed era riuscito a far tacere anche la voce della sua cascienza a rimanere sordo alle parole del maestro a dissociarsi da quel gruppo di persone quegli altri undici con i quali ripeto aveva condiviso tre anni straordinari era riuscito a portare a termine il suo piano criminoso conquistando quel denaro che gli stava tanto a cuore ora che ce l'ha quei soldi non gli danno gioia quei soldi non gli danno la soddisfazione sperata diventano come un fuoco nelle sue mani non riesce a tenerle non può guardarli spera anzi di potersene liberare li restituisce come abbiamo detto e spera che in questo modo di poter ritrovare quella pace che ora non ha più ma non è possibile egli si può solo liberare dei 30 cicli ma non dal peso per il peccato che ha commesso è una scena triste una scena che di sicuro ha delle tinte fosche una scena tragica sotto diversi aspetti ma questa scena non vuole essere soltanto un qualcosa che rende ancora più avvincente la storia della passione di cristo ma vuole rimanere una lezione per tutti quanti noi sull'importanza di camminare nell'onestà nella fedeltà e sull'importanza di dare a cristo il giusto valore nella nostra vita non possiamo svendere la grazia non possiamo svendere l'opera di cristo non possiamo lasciarci vincere così facilmente dal peccato non possiamo tradire la nostra fedeltà al signore non possiamo farlo perché quello che potremmo guadagnare non servirà mai a ridare a darci quella pace che cristo è capace di dare possiamo delle volte non essere capiti dagli altri per la nostra fede per la nostra fedeltà verso il signore ma poco importa quello che importa è che abbiamo l'approvazione di dio e abbiamo la sua grazia che trabocca nei nostri cuori nulla potrà darci quello che cristo ci può dare cosa giova all'uomo se guadagna il mondo intero e poi perde l'anima sua se giuda potesse tornare indietro sicuramente non rifarebbe quell'errore e se fosse se potesse essere qui presente stamattina ci direbbe non fate quello che ho fatto io non ne vale la pena rimane soltanto un grande peso un grande dolore un grande senso di smarrimento sarebbe stato meglio per me essere come pietro come giacomo come giovanni sarebbe stato meglio per me rimanere fedele al signore sarebbe stato meglio per me non prendere quei trenta sicli non lasciarmi vincere dalla mia passione dalla mia avidità sarebbe stato meglio non fare quella scelta non imitare giuda rimani fedele al signore costi quel che costi perché la benedizione di dio è qualcosa che non può essere paragonata a nessun'altra esperienza della vita avere il signore averlo vivente nel proprio cuore l'esperienza e la sensazione più bella che si possa vivere giuda forse lo capì ma lo capì in ritardo anziché pentirsi si lasciò vincere ancora una volta dal peccato e si suicidò se stamattina sei in una condizione simile a quella di giuda nel senso che sei tentato tentata di abbandonare le vie di dio ti voglio invitare con tutto il cuore a non farlo grazie a tutti